Salve amici del Centro Metro Italiano. Inizio giugno all'insegna del maltempo e del calo termico sull'Italia. Ma cosa ci aspetta nel proseguo dell'estate? Vediamo le ultime proiezioni. A seguito della nuova ondata di maltempo, un profondo campo di bassa pressione continuerà a stazionare tra penisola scandinava e isole britanniche, favorendo instabilità diffusa su gran parte dell'Europa. L'emissione del modello europeo di questa mattina mostra l'anticiclone delle Azzorre elevarsi ancora verso nord, con una nuova perturbazione in arrivo sull'Italia intorno a metà giugno. Dello stesso avviso è anche il modello americano che propone un nocciolo depressionario tra Italia e Francia. Con queste proiezioni le temperature potranno mantenersi al di sotto della media stagionale anche di 2 o 4 gradi. Per tutti i dettagli vi invitiamo come sempre a seguire sia il nostro sito che il nostro canale YouTube. Un saluto da parte del centro metro italiano.